È un'iniziativa promossa dalla società italiana di otorinaringoiatria e chirurgia cervico-facciale per il terzo anno consecutivo riguardante le patologie dell'udito e anche sotto legida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità perché oggi è anche primo marzo la giornata mondiale dell'udito. Il nostro ospedale insieme con tutte le altre figure professionali e anche sul territorio ha aderito a questa iniziativa che è molto importante, che è su scala nazionale. Le patologie dell'udito sono molto importanti dal punto di vista sociale perché coinvolgono tutti gli strati della società e tutte le età da cominciare dalle forme infantili congenite con Natale e infantili e a finire con quelle dell'adulto e dell'anziano. Per cui è molto importante sensibilizzare la popolazione sul fatto che l'ospedale di Matera offre tutta una serie, un ventaglio di prestazioni rivolte a questa patologia che è in grado di risolvere la maggior parte dei problemi. La nostra unità operativa complessa di Otorino a Lingoiatria ha anche recentemente implementato l'offerta in termini di possibilità di abbassare le liste di attese per quanto riguarda gli esami audiometrici, per esempio, proprio in questa ottica e anche altri tipi di patologie che possono verificarsi in contemporaneamente per esempio le patologie dell'equilibrio insieme con quelle dell'udito.